Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infatti si sta notando. Inizio innanzitutto a chiederle appunto come è stato organizzare questo grandissimo evento nazionale e quali sono state le difficoltà e quali le non difficoltà nell'organizzazione. Prepararsi a una donata significa affrontare un lavoro che va nell'ordine di grandezza un anno e mezzo di preparazione. E' chiaro che non lo fa una persona dallo solo, lo fa un insieme di persone riunite in un comitato organizzatore con poi tanti altri collaboratori che nell'organigramma del nostro comitato operano nei vari gruppi di lavoro organizzati a seconda delle tematiche operative. E' un lavoro complesso, ovviamente abbiamo dei dati storici, un'impostazione delle passate esperienze, nel caso specifico questa è la mia quinta donata nazionale. Mi avvalgo però di collaboratori eccezionali anche al di fuori della componente alpina. In primis ad esempio un collega che segue tutta l'attività marketing, un'attività determinante per poter abbattere anche quelli che sono i costi della donata. Noi riusciamo a pagarci circa un terzo dell'evento. Questo veramente ogni anno migliora nella sua organizzazione. Quindi parlare delle difficoltà è difficile, andrei ad annoiare voi pubblico, credetemi sono tante, però poi ci ripaga il risultato con tanta tanta soddisfazione. Ecco, mi ricollego anche alla sua risposta di adesso. Siamo sicuramente tutti portavoce di un sentimento popolare molto forte con riferimento agli alpini e alla donata nazionale. È un evento impregnato di attese e di entusiasmo sempre crescenti. Sappiamo, possiamo ancora di più provare l'esistente proprio concreta dei veri valori, di come diceva lei, oltre che di giustizia e di fratellanza e di collaborazione tra gli alpini. Lei non ritiene che il lascito morale e di esempio sia notevolmente superiore ai pur grandi vantaggi comunque economico-logistici? Decisamente sì. A noi fa piacere che ci sia anche nel territorio che ci ospita, non solo nella città, nella provincia, nella regione, anche una ricaduta importante da un punto di vista economico, utilissima in questi momenti non facili. Però credetemi, credeteci, a noi interessano di più i valori. Per noi la donata è il momento dell'incontro, della fratellanza, del riallacciare queste vecchie amicizie, del poter dire ci siamo, siamo qui, siamo qui per vivere quello che per noi è il momento più importante a livello associativo. E lo è in particolare la domenica. Lo è stato ieri, indubbiamente, con il passaggio attraverso il centro storico di questa bellissima città, il passaggio della bandiera di guerra del terzo reggimento Artiglina Montagna. È stato un bagno di folla per il reparto in armi, per la fanfara della Iulia, un tributo dato alla bandiera del terzo eccezionale. Ecco perché parlo di adunata dei record. Ma lo sarà ancora di più domani, domani quando alle otto e mezzo renderemo gli onori alla massima carica dello Stato e poi alle nove in punto avrà inizio questa sfilata della nostra ottantasettesima adunata. Sfilata che cesserà, speriamo, verso le 22, quando in piazza 20 settembre, faremo la maina bandiera e passeremo la stecca, il testimone, alla città che ospiterà l'ottantaottesima adunata, la città dell'Aquila. Ecco, mi ricollego un attimo anche sicuramente all'importante storia generale degli Alpini italiana. Richiamo una figura importante, un fulgido esempio sicuramente di patriottismo, il generale Antonio Cantore. Sicuramente lei potrà citarmi ulteriori presenze molto importanti nella storia degli Alpini. Ecco, chiedo, richiamando sempre questi esempi molto importanti per tutti gli italiani e non soltanto per gli Alpini, volevo chiedere, gli Alpini richiamando sia l'impegno sociale, sia l'aiuto che dà come esercito italiano, ma anche come valori, può essere realmente la soluzione a questa situazione di criticità del Paese? E' vero, noi Alpini non siamo meglio degli altri, noi siamo dei cittadini normali che indossano un copricapo particolare, che però rispettano le regole che i nostri padri fondatori si sono dati oltre 90 anni fa. Nel rispetto di queste regole viviamo la nostra vita associativa e in mezzo a noi c'è di tutto, c'è di tutto anche in termini di professione, dal contadino all'operaio all'ingegnere piuttosto che al magistrato. Quello che ci unisce è lo spirito di appartenenza e quindi noi ci permettiamo di dire all'Italia tutta, cara Italia, noi ti amiamo tanto, noi e tanti altri cittadini ti amano e ti rispettano. Facciamo in modo che nell'esempio anche che danno gli Alpini nella loro concretezza si adeguino i cittadini italiani tutti a questo vivere nel rispetto delle regole, nel rispetto della solidarietà. Ecco, in ultimo vorrei richiamare un attimo i tradici momenti ed eventi del 1976 del 6 maggio, se non ricordo male, con il terremoto in Friuli. Ricordiamo innanzitutto una foto che può manifestare anche l'aiuto concreto degli Alpini, quel rudere nell'alto Friuli che riporta la scritta, il Friuli ringrazia e non dimentica. Ecco, cosa vuole dirci a riguardo, qual è stata la sua impressione? Io ero in servizio quella tragica serata e posso dire l'altro giorno che eravamo qui nella fase finale dei preparativi e abbiamo proprio pensato a quel 6 maggio del 1976. Lì è nata la protezione civile, lo possiamo dire, lo possiamo gridare e gli Alpini ne hanno fatto subito parte. L'altro giorno eravamo alla base Nato di Aviano, giovedì in visita ufficiale, e abbiamo ricordato al comandante della base come gli Stati Uniti abbiano avuto fiducia in noi e quanto gli Stati Uniti hanno devoluto al Friuli, a chi l'hanno dato? Agli Alpini che hanno saputo gestire con oculatezza, con la loro capacità di gestione, tutti quei miliardi dati dagli Stati Uniti per realizzare opere concrete. E quindi ben venga quel ricordo che non potrà mai venire meno, però ricordiamoci che dobbiamo continuamente migliorare per rendere sempre più attiva la nostra protezione civile. Con riferimento, sempre richiamando la fratellanza degli Alpini, con riferimento ai nostri amici marò, prigionieri in India, portiamo tutti un segno giallo di riconoscimento di fratellanza. Cosa dice a riguardo? Anche se in questo momento non l'ho appuntato al petto, l'ho nel cuore. Fin da subito e domani, in testa alla sfilata, ci sarà il ricordo per loro due. Io ricordo mesi fa, quando ci fu quella manifestazione a Roma sotto l'acqua, promossa dai familiari di questi nostri due militari, noi c'eravamo associazione d'arma altamente rappresentata. Quindi dico, cari ragazzi, tenete duro, vi portiamo nel cuore, domani vi ricorderemo, vi vogliamo presto a casa. Per chiudere le chiedo, quale patrimonio lascerà a provincia di Pordenone la Donata Nazionale degli Alpini 2014? Senz'altro qualcosa lascerà. Lascerà a questi cittadini, a questa città, il ricordo di una manifestazione unica, forse irripetibile. Unica perché non avendola mai vissuta, i pordenonesi erano tutti uvanti all'inizio, lo erano le istituzioni stesse. Avete visto, e senz'altro così succederà domani, che questo evento, che credo di poter dire, per quanto ho letto, unico nel suo genere in Italia e a livello di associazione d'arma, unico di suo genere nel mondo, lascerà nel cuore dei pordenonesi e dei cittadini tutti di questo magnifico territorio. Un ricordo, veramente un calore, un affetto. Vi ringrazio, ci scusiamo se vi abbiamo invasi, l'abbiamo fatto con gioia, con tanta amicizia. Viva Pordenone, viva gli Alpini, buona Donata Nazionale. E' quello che aspettavamo da Pordenone. Grazie di tutto, grazie al Vice Presidente dell'ANA e Presidente del COA, Nino Geronazzo. Grazie a lei, e con lei stringo tutti i pordenonesi. Grazie. Grazie.